simpaticissima gaff a realità il famoso gioco televisivo di raiuno condotto da flavio insinna in particolare la domanda era qual era il nome del celebre pittore artista contemporaneo warhol una domanda scontata semplice di risposta pronta in maniera immediata ovviamente la risposta è handy per tutti quelli che non lo sapessero ovviamente e in qualche maniera se da un lato i più probabilmente sanno che si chiamava handy la concorrente invece dinanzi a questa domanda avrebbe risposto con la parola o meglio il nome paolo un telespettatore avrebbe deciso di riprendere la risposta in questione postando su web o meglio nei social il video in cui si sente la risposta in questione non è sfuggita quindi a molte persone ma non a tutte la risposta che sarebbe stata data io voglio dire in questo video però che non bisogna essere crudeli non bisogna essere cattivi non bisogna essere critici nei confronti dei concorrenti perché quando si è davanti ad una telecamera e ci sono migliaia di persone che vengono a guardarti è chiaro che una persona qualsiasi essa sia secondo me può andare in tilt vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua fatemi sapere che cosa ne pensate datemi la vostra opinione un caro saluto a voi tutti da narratore italiano